Coronavirus sono 102 i positivi attuali in provincia, con due ricoverati a Belluno in area non critica e due all'ospedale di comunità di Feltre. L'Ulss Dolomiti informa che l'offerta dei drive-in di Agordo e Paludi di venerdì è stata rimodulata per agevolare il passaggio del Giro d'Italia Under-23. Il punto di Agordo osserverà l'orario 13.30-18, mentre la seduta tamponi pomeridiana verrà annullata. A Paludi l'orario sarà invece 16.22. Da Venezia il governatore Zai ha fatto il punto della situazione sul contagio. Il Veneto ha un'incidenza pari allo 0,16%, che equivale alla più bassa di sempre. Presentato inoltre il nuovo piano di salute pubblica, aggiornata la diagnostica e ridefinite le modalità di screening con i tamponi. Tra le novità, la quarantena in caso di positività torna a 10 giorni per i casi fuori dalle varianti e per il personale sanitario e gli operatori dell'RSA vaccinati i tamponi verranno fatti ogni 30 giorni, mentre se non sono vaccinati saranno controllati ogni 7 giorni. Per noi è molto importante evitare che il soggetto non vaccinato possa essere portatore del virus nell'ambiente di lavoro. Per quanto riguarda gli ospiti, abbiamo mantenuto i 20 giorni per le persone che sono vaccinate ogni 7 giorni per i non vaccinati. Diciamo i 20 che noi non abbiamo abbassato la guardia. Non stiamo celebrando la festa della liberazione, ma stiamo schierando tutta l'artiglieria in caso di... La nostra quota base, essendo in zona bianca, sono 7.350 tamponi al giorno di base. Questo prevede la tabella. Noi ne faremo di più, con delle popolazioni target variegate, ci capiterà di andare al concerto piuttosto che fare un giro in spiaggia o andare in un supermercato, andare ai centri estivi.